buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi per me è martedì 7 maggio può darsi 7 oggi boh può darsi sono le 9 della mattina la sara l'ho appena lasciata al nido stamani sono con mio babbo è venuto anche lui a lasciare la sara al nido e adesso sono qua fuori al parcheggio della coppia perché doveva prendere due oggetti io però sono rimasta in macchina appunto anche perché piove e poi non mi serve niente di particolare l'unica cosa è il latte d'avena e me lo prende lui e basta poi adesso torno a casa e stamani l'idea era quella di pulire un po la cucina tutti i cassetti a modino perché è già un po che non lo faccio e quindi niente stamani pulizzi in realtà lo ci ha fatto anche ieri però stamani vorrei proprio pulire un pochino come si deve la cucina e niente quindi puliamo insieme tra virgolette dovrei anche fare il cambio degli armadi però aspetto che sia un tempo migliore e anche la cassettiera della sara dovrei riordinare perché adesso tanto il freddo freddo non c'è più quindi vorrei togliere le cose proprio quelle pesanti e iniziare a mettere quelle estive che insomma mi iniziano già ad esserci alcune cose quindi vorrei iniziare a sistemare anche la cassettiera sua iniziare a sistemare un pochino iniziare a sistemare un pochino iniziare a sistemare un pochino iniziare un pochino 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Metto un attimo il telefono in carica perché ha il 20% e poi continuo. Grazie a tutti. 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 A presto.